Allora, se non mi capite perché non siete bravi a capire il mio dialetto, va bene, ma se non lo volete capire perché invece non vi va di capirlo perché dovete fare uno sforzo, e allora vi dico, o mi capite o vi perdete. E hanno tutto fatto lo sforzo di capirlo. Ha costretto l'Italia a capire che questo modo di esprimersi non è soltanto un dialetto, è un modo di pensare.